Il segno è un pesante segno e allora noi tante volte ci poniamo le domande ma è giusto continuare a fare altre cose piuttosto che pensare magari sul sociale? Poi sta passando, arriva la luce e c'è un male peggiore che forse è peggiore di questo, non c'è niente, la guerra, stavolta sta guerra maledetta è qua alle nostre porte e quindi la sentiamo ancora di più e ancora di più ci poniamo delle domande però vi dico subito che la nostra risposta convinta è sì, è giusto assolutamente continuare a fare manifestazioni come queste, continuare la nostra vita di tutti i giorni perché questo è il bene e il bene deve sconfiggere il male che è la guerra e tutto quello che ne consegue quindi io vi ringrazio doppiamente per aver fatto lo stesso questa settimana di FinFest era ventennale, vent'anni è ben detto che aveva voluto farli alla grande e voi ci siete riusciti pienamente nonostante tutto quello che abbiamo intorno grazie veramente di cuore grazie Sì grazie a tutti